Allora, prenda sempre Sergio Rastelli con il gioco di grande Pasolini, un attimo ancora che stiamo sulla bandiera corretta per la seconda posizione e poi siamo pronti con la premiazione della 125, benissimo, allora direi che possiamo andare, prendere, terzo per noi, perfetto, prima, per noi, perfetto, la prima, perfetto, l'epoca, perfetto, la prima, perfetto, l'epoca, la hostess, la seconda posizione, per noi, perfetto, la Per Filippo Grandi, libero delle maggiorate italiane, 3.325, 3 punti, vado con il nuovo attore di internazionale. Per Filippo Grandi, anche per la Filippo Grandi, è arrivato il momento di festeggiare il podio. Per Filippo Grandi, anche per la Filippo Grandi. 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 Grazie a tutti.